Bicarbonato di sodio. Berne un bicchiere al giorno può fare miracoli. Il nuovo studio Bicarbonato Infiammazioni una soluzione di acqua e bicarbonato di sodio da bere ogni giorno potrebbe ridurre le probabilità di avere l'artrite reumatoide e altre malattie autoimmuni. Il nuovo studio. Scongiurare un'infiammazione con il bicarbonato di sodio. Non solo un fantastico prodotto da utilizzare efficacemente per la pulizia della casa e per la bellezza, ma anche utile nella lotta contro artrite reumatoide e malattie autoimmuni se se ne consuma un cucchiaino ogni 4 ore. Tutto grazie agli effetti che il bicarbonato avrebbe sulla milza. In un nuovo studio, gli esperti del Medical College of Georgia avrebbero infatti scoperto che, dopo aver bevuto una soluzione di bicarbonato di sodio, la milza, così come il sangue nei reni, sarebbe in grado di contenere meno cellule infiammatorie e più anti-infiammatori. Di conseguenza, l'acqua unita a un po' di bicarbonato di sodio potrebbe ridurre le probabilità di avere l'artrite reumatoide e lupus. Il bicarbonato di sodio di sodio è una sostanza alcalina, ossia ha un pH superiore a 7. Per questo motivo in una fase iniziale accresce il pH gastrico che, per ritrovare equilibrio, aumenta a sua volta la quantità di acido. Se un eccesso di alcalinità potrebbe sfociare facilmente in acidità e viceversa, nel momento in cui si beve un po' di acqua e bicarbonato si porterebbe lo stomaco a produrre più acido per digerire. In questo modo si evita che la milza produca un'anomala risposta immunitaria. Sarebbe questa risposta immunitaria che di solito porta all'infiammazione del corpo. Per questo motivo, gli scienziati pensano che bere il bicarbonato di sodio faccia agire la milza, che fa parte del sistema immunitario, come un grande filtro per il sangue. Ed è qui che vengono memorizzati alcuni globuli bianchi, come i macrofagi, per facilitare la risposta immunitaria. Certamente bere bicarbonato influenza la milza e pensiamo che ciò avvenga attraverso le cellule mesoteliali, spiega il dottor Paul Connor, fisiologo renale del Medical College. Gli scienziati sono così riusciti a dimostrare che un rimedio economico come il bicarbonato sia in grado di contrastare un'infiammazione che può portare a condizioni dolorose scatenate dall'artrite e a prevenire malattie renali. Il passaggio dal profilo infiammatorio a quello anti-infiammatorio avviene ovunque, l'abbiamo visto nei reni, l'abbiamo visto nella milza, ora lo vediamo nel sangue periferico, ha dichiarato O'Connor. Quando si assume il bicarbonato di sodio, si incoraggia l'organismo a produrre un maggior numero di celluleti regolatorie, le quali impediscono al sistema immunitario, tra le altre cose, di attaccare i suoi stessi tessuti, quanto bicarbonato assumere. Secondo i ricercatori, la durata dell'effetto anti-infiammatorio dovuto al consumo di bicarbonato di sodio sarebbe di circa 4 ore e la dose sarebbe di un cucchiaino di bicarbonato mescolato con mezzo litro di acqua. Il bicarbonato si mostra ancora una volta in grado di essere un valido alleato per la nostra salute. Ovviamente, ogni caso specifico va studiato e analizzato insieme con il proprio medico curante, così come anche è utile tenere bene a mente bicarbonato di sodio. Quando utilizzarlo e come farlo nel modo giusto dopo un pranzo o una cena troppo pesante il bicarbonato di sodio può essere un ottimo rimedio per ritrovare il giusto equilibrio intestinale, ecco come utilizzarlo come salute e benessere condividi su Facebook 55 fonte. Google scopriamo come si usa il bicarbonato di sodio per digerire ed eliminare i fastidi apportati da un pasto gustoso, ma altrettanto pesante. Chi ama mangiare lo sa, pranzare o cenare in abbondanza a base di pietanze gustose e saporite è uno dei piaceri della vita, ma molto spesso se ne pagano le conseguenze. Senso di gonfiore addominale, bruciore di stomaco, acidità sono dietro l'angolo a ricordarci i nostri peccati di gola. Oltre al classico amaro da assumere a fine pasto, un'ottima ed efficace alternativa alla difficoltà digestiva risulta essere il bicarbonato di sodio. Per digerire, sciogliamo ne mezzo cucchiaino da caffè in mezzo bicchiere d'acqua a temperatura ambiente e beviamo la soluzione ottenuta. In pochi minuti allontaneremo tutti i fastidi relativi alla nostra digestione difficile. Le dosi corrette ormai cosa nota che il bicarbonato sia ottimo per digerire, e nonostante i suoi molteplici utilizzi il pensiero di questa sottile polvere bianca si associa sempre al dopo pranzo, per digerire dopo un pasto abbondante la giusta dose di bicarbonato di sodio da assumere ed in mezzo cucchiaino da caffè in un bicchiere scarso d'acqua non fredda. Se si ha bisogno di eliminare il gas addominale o dare una mano all'intestino allora si dovrà aumentare la dose a un cucchiaino intero. Per contrastare gli effetti dell'acidità di stomaco basterà aggiungere all'acqua e bicarbonato una puntina di zucchero. Le avvertenze nonostante il bicarbonato abbia delle proprietà eccezionali e si possa usare negli ambiti più svariati, cucina, estetica, farmacologia, medicina, si deve porre particolare attenzione a non somministrarlo in combinazione con aspirina, benzodiazepine, sulfamidici, tetracicline, litio e vitamine. Ad esempio, se il bicarbonato di sodio si assume insieme a vitamina C o acido ascorbico vi sarà una reazione di neutralizzazione acido basica. Per il resto, non ha effetti collaterali degni di nota. Altri effetti benefici il bicarbonato di sodio è impiegato in tantissimi contesti, primo fra tutti la difficoltà digestiva, ma viene utilizzato anche per combattere la candidosi vaginale e l'onicomicosi in quanto a proprietà fungicide. Combatte le infiammazioni gengivali e il mal di gola e viene utilizzato per effettuare dei lavaggi nasali in presenza di raffreddore e sinusite. In caso di emorroidi o arrossamenti delle parti intime un lavaggio con acqua e bicarbonato esercita un potere decongestionante, mentre assumerne una puntina e mezzo bicchiere d'acqua tre volte al giorno aiuta a combattere i bruciori della cistite. È un'ottima cura della congiuntivite se si effettuano degli impacchi sugli occhi con garze immerse in acqua calda e bicarbonato, senza contare che in cucina viene utilizzato nella realizzazione di dolci e pietanze varie e impiegato nel lavaggio degli ortaggi. Infine, il bicarbonato di sodio è un favoloso rimedio casalingo per la corretta pulizia di oggetti e gioielli in argento, alternativa ideale ai prodotti chimici e maleodoranti presenti in commercio, da usare da solo oppure in combinazione con il succo di limone per un composto da strofinare direttamente sul metallo e rimuovere con un abbondante risciacquo in acqua tiepida. Il bicarbonato di sodio è un prodotto presente in milioni di case in tutto il mondo, oltre ad avere applicazioni in cucina. I vantaggi del bicarbonato di sodio si notano non solo nei lavori di pulizia e ma anche nella salute. Anche se al giorno d'oggi molte persone preferiscono i prodotti specifici che si trovano al supermercato, altre si affidano ancora ai molteplici vantaggi del bicarbonato di sodio. Se assunto con moderazione e in piccole quantità, è stato dimostrato che il suo consumo aiuta il benessere generale del corpo. Questo perché regola il pH naturale del sangue e riduce il livello di acidità. Sciolto in acqua, rappresenta uno dei rimedi naturali più antichi e consumati al mondo. Una formula capace di proteggere il nostro organismo da varie malattie. 1. È un antiacido naturale. Vantaggi del bicarbonato di sodio per alleviare l'acidità. Le proprietà antiacide di questo ingrediente naturale sono uno dei principali vantaggi del bicarbonato di sodio, per cui è presente in tutte le case. Aiuta a neutralizzare gli acidi gastrici e a prevenire il fastidioso reflusso acido. Diluito in un bicchiere d'acqua, il bicarbonato di sodio diminuisce il gonfiore e la presenza di gas e fornisce un rapido sollievo in caso di indigestione. Leggete anche, 7 rimedi naturali per trattare l'acidità di stomaco e il reflusso 2. Alcalinizzante naturale. Gran parte delle nostre abitudini alimentari ci portano ad avere un organismo acido ed esposto a diverse malattie. Grazie alla sua capacità di neutralizzare l'acidità e al suo effetto alcalinizzante, il bicarbonato di sodio ha dimostrato di essere un aiuto naturale, per regolare il pH del corpo e a migliorare il nostro stato generale di salute. Con il suo basso costo, questo semplice prodotto rappresenta uno dei rimedi naturali più efficaci contro l'acidità del sangue. Il suo consumo giornaliero deve essere però limitato, dal momento che un eccesso potrebbe alcalinizzare troppo il corpo e quindi essere dannoso. 3. Vantaggi del bicarbonato di sodio Come antisettico bicarbonato di sodio come colluttorio Fra i vantaggi del bicarbonato di sodio c'è il suo leggero effetto antisettico, che può essere efficace nel rimuovere virus e batteri. Per questo motivo, possiamo usarlo come ingrediente base per i gargarismi in caso di dolore e infiammazione della gola. 4. Allevia le infezioni del tratto urinario Un bicchiere di acqua e bicarbonato può agire come barriera protettiva contro le infezioni del tratto urinario, grazie alla sua capacità di ridurre i livelli di acidità nell'urina. Può essere un buon complemento al consumo di acqua e succo di mirtilli. Un altro ottimo modo per prevenire queste infiammazioni quando sono ricorrenti. 5. Combatte la gotta ed altri problemi articolari Dolore articolare alti livelli di acido urico nell'urina e nel sangue possono essere causa di disturbi cronici e malattie come la gotta o l'artrite. L'acqua con il bicarbonato regola il pH del sangue e diminuisce la concentrazione di questo acido, prevenendo le patologie ad esso associate. 6. Controlla il tasso di colesterolo bere acqua minerale con bicarbonato di sodio può contribuire a ridurre il colesterolo alto, in particolare quello di tipo LDL, chiamato anche colesterolo cattivo. Tuttavia, a causa dell'elevato contenuto di sodio, non è consigliato a chi soffre di pressione alta. Vi consigliamo di leggere anche, Delizioso frullato contro il colesterolo e l'ipertensione 7. Come assumere l'acqua con il bicarbonato di sodio. Bicarbonato di sodio 500 x 333 come abbiamo già detto in precedenza, il consumo eccessivo di questo prodotto potrebbe generare pericolosi effetti negativi, per poterlo assumere senza rischi. Quindi, tenete in considerazione i seguenti consigli. Dose per il benessere del corpo 1-2 cucchiaino di bicarbonato di sodio, 3 gr, 1 bicchiere d'acqua, 200 ml. Sciogliete il bicarbonato nell'acqua e bevetene un bicchiere al giorno. Per qualche giorno al mese, forse il sapore non sarà buonissimo, ma il consumo saltuario di acqua e bicarbonato è una scelta molto sana. Cominciate ad introdurlo nella dieta e, nel giro di poco tempo, potrete già sentire nel vostro corpo i primi cambiamenti positivi.